Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi andremo a provare a scambiare i nuovi veicoli anche se in realtà è passata quasi una settimana ma io sto registrando questo video molto in ritardo quindi ho delle veramente basse aspettative perché è già passato un po' però proveremo a scambiarlo lo stesso quindi andiamo a metterli subito nei preferiti proveremo a scambiare il nuovo veicolo che si trova qua praticamente nei regali che serviziamo intanto? e proveremo a scambiare anche quello a pagamento questo qui ragazzi ok, quale proviamo a scambiare? vediamo, iniziamo con questo equipaggiamolo vediamo se riceviamo delle offerte con noi abbiamo un pet per caso? come mai non abbiamo nessun pet? meglio, l'avrei tolto ok, vediamo se ci arrivano delle offerte eventualmente cambiamo server ci arriva una richiesta non ho capito ci dai una tartaruga? ma che sta dicendo? questa è pazza? diamole anche questo perché secondo me li vale ma seriamente? ma perché mi devono prendere in giro? ragazzi, secondo voi? cioè, secondo me è una presa in giro non è possibile io accetto ecco lo sapevo io vabbè boh, non lo so ragazzi perché si devono passare il tempo così mi fanno rimanere male proviamo l'altro vediamo se magari l'altro che costa tanti soldini Ma perché non cammina? Non cammina Mi si è buggato Non va né avanti né indietro Perfetto Ok si è buggato Una richiesta Wow Wow Veramente Mi sa che ho aspettato troppo raga per fare questo video Mi sa che ho aspettato troppo Raga cambio server Perché qui non vedo Interesse Ci siamo ragazzi Dopo non so quanti minuti di attesa Tanti Siamo entrati in un altro server Saremo più fortunati Perfetto sto leggendo in chat Scambio sandwich Vediamo Ci sono tanti pet Abbastanza Importanti Vediamo se sono interessati Ai veicoli Una richiesta ragazzi Vediamo Ma perché 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 E Ecco A presto! niente raga sono qui da un po e non mi fanno proprio richieste certe volte non so se mettere questi video in cui è stato un totale fallimento io tendo sempre a non metterli però magari qualcuno potrebbe pensare che io effettivamente non l'ho fatto ma io l'ho fatto il video perché me l'avete chiesto sotto nei commenti però purtroppo penso di aver aspettato troppi giorni da effettivamente l'uscita di questi veicoli e adesso non c'è più totalmente interesse o non lo so se c'era effettivamente quindi boh raga non so che fare sarà un video molto corto però credetemi sono da tanto qui cambio l'ultimo server cambio provo a cambiare l'ultimo server e vediamo come va se saremo più fortunati ci siamo ragazzi siamo entrati nell'ultimo server e come va va non sono andata in un server molto ricco ma uno di quelli che mi uscivano così perché ho pensato magari ecco perfetto sapevo io ragazzi ma come faccio a prendere server ni ci ho riprovato ragazzi ci ho riprovato sono entrati in un server che non era pieno che non c'era da fare la fila comunque con questa voce che mi manca tipo sembro ubriaca certe volte quando parlo vediamo questo server e questo è veramente l'ultimo ragazzi speriamo che sia un buon server che sonno raga ma dai dove sono le persone raga dove sono oh una richiesta ragazzi una richiesta dov'è ok niente raga provate a offrirmi un paio di veicoli ma ce li ho tutti scusate se guardo di qua ma c'è la finestra avevo sentito degli sportelli siccome sto aspettando dei pacchi tra l'altro ragazzi colgo l'occasione per dirvi se siete ancora rimasti in questo video noioso dato che non siamo riusciti a scambiare niente ora investiamo tutti ma chi c'è con me tra l'altro ma chi è ma di chi è questo cane perché ho un cane con me non lo so non facciamoci domande comunque colgo l'occasione per dirvi a voi che guardate i miei video di ad hoc me perché non guardate anche gli altri miei video non vi interessano perché non vi interessa l'argomento vi trovate noiosi sempre a termine di argomento o magari non vi piacciono come sono fatti non lo so accetto delle critiche costruttive non lo so fatemi sapere effettivamente perché non guardate anche i miei video gli altri perché forse non vi interessano ma però lo apprezzerei che me lo diciate apprezzerei comunque un vostro commento così per capire che genere di video vi potrebbero piacere comunque raga niente mi dispiace questo video è stato veramente corto e soprattutto non abbiamo fatto una merita cippa purtroppo come avete visto sarà stata colpa mia che abbiamo effettivamente aspettato troppo cioè ho aspettato troppo ma tra le feste tra i malanni tra le cose non sono riuscita a registrarlo subito quindi ho detto vabbè lo registro però a quanto pare è passato troppo tempo oppure fatemi sapere voi se magari non c'è stato completamente interesse effettivamente per questi veicoli non lo so scrivetelo sotto con un commento lasciate un mi piace anche se non vi è piaciuto questo video per supportarmi come sempre e io vi ringrazio tantissimo per tutti quelli che mi supportano e mi sopportano e noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando se non sei ancora iscritto al canale cosa stai aspettando ciao 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 ciao